Oggi parliamo di Giorgia Benicci, che è una giovane che ha a cuore una vettura, una vettura a torto ragione che entrerà defilato nella storia dell'automobilismo mondiale, ovvero la Fiat Multipla. La Fiat Multipla, ricordiamolo, quando è stata presentata aveva un design piuttosto veneristico, piuttosto particolare, molto personale e ha avuto un po' di tempo, i primi due anni non se ne sono vendute molte. Poi è stata apprezzata per come era, tant'è che ancora oggi Fiat ha deciso di bloccare la produzione, ma gli stampi sono stati venduti in Cina, ed è una delle autovetture più apprezzate del mercato cinese. Perché? Perché è un'auto molto particolare, è un'auto che fuori ha delle dimensioni che comunque non sono esagerate, dentro ha un'abitabilità e una capacità di carico che sono veramente uniche. Abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro il centro stile e il centro progettazione Fiat all'epoca, veramente un gran bel lavoro. La brava Giorgia Beneggi lo ha capito e è riuscita ad arrivare là dove scuole di architetti e ingegneri non ci sono arrivati, ovvero fin dagli anni 80 è pieno il mondo di... cioè sono nate le monovolume, prima l'Arena Espace, poi le altre, poi sono nate addirittura le monovolume direttamente derivate dal furgone e quindi lì era ancora più semplice, cioè abbiamo avuto l'Arena Espace, abbiamo avuto il Fiat Ulysse che non era altro che lo Fiat Scudo, abbiamo avuto il Nissan Vanette che non era altro che l'edizione nel furgone trasformata in monovolume, c'è una noia. Invece in questo caso la Multipla nasce solo esclusivamente come autovettura monovolume, quindi con delle caratteristiche, con dei limiti interni, con degli obblighi che sono molto particolari, è sicuramente una sfida, è una cosa molto difficile. Noi siamo orgogliosi e contenti in un video come questo di poter parlare di Giorgia Beneggi che ha due caratteristiche che sono quasi due peccati mortali. Uno è giovane, due è una donna e quindi capite che per molti soloni queste due cose possono essere anche molto brutte e perché... ma come si permette? Invece la sua realizzazione è molto bella, ha un gruppo Facebook che è Camperizzare la Multipla che è veramente seguito e apprezzato da parecchie persone, qualche progettista fa anche finta di non conoscerlo, però lo segue. Però devo dire che se questo è il futuro del settore, se questa è una strada che ci viene indicata una linea maestra, devo dire che il nostro settore è molto, ma molto ben posizionato per il futuro, perché finché ci sono le Giorgia Beneggi uniche che riescono a prendere una Multipla, camperizzarla, andarci in giro con grande soddisfazione, beh, carissima Giorgia, bantati perché sei arrivata là dove tanti geni non ci sono arrivati, perché ripeto, c'è una monovolume, cioè sono capaci, perfino io, una monovolume ci vuole in due secondi, ci vuole un architetto, un ingegnere, invece caspita una Multipla, sì ci vuole, per cui brava, complimenti e seguitela, 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 ne vale veramente la pena. Grazie.